Abbiamo bisogno di menti come la tua, Ender. Sarai il miglior comandante che abbiamo mai addestrato. Quindi non sono il primo. No, ma sarai l'ultimo. Se non agiamo ora, la Terra sarà annientata. Ci siamo. Fuoco! Non ho mai visto nessuno farlo. Farò l'impossibile per vincere questa guerra. Se riuscirai, verrai ricordato come un eroe. Ora! Ender's Game. Dal 30 ottobre al cinema.